Il 58% delle imprese ha difficoltà a reperire mano d'opera ad assumere è quanto viene fuori dall'indagine del Centro Studi Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, riferita al 2022 e all'inizio del 2023. Le difficoltà nella ricerca di personale riguardano soprattutto competenze e mansioni specifiche, ma una grande fetta dello studio ha riguardato anche il lavoro agile. Lo smart working ormai viene adottato da molte imprese. Un dato preoccupante è questa attenzione un'impresa su due in effetti ha difficoltà a reperimento di personale, mancano ragazzi specializzati, mancano tecnici, mancano competenze, competenze legate anche alla transizione digitale, alla transizione energetica, mancano tutte quelle figure che hanno un'attinenza nel mondo produttivo industriale e la provincia dell'Aquila ha un'alta vocazione industriale. Molte azioni però sono state intraprese da Confindustria come l'accordo con l'ITIS per l'avvio di un percorso formativo ad Avezzano in autunno per la qualifica di tecnico-industria 4.0. La parola formazione insomma è quella chiave. La più importante è sicuramente quella dell'avvio di un percorso di istruzione tecnica superiore ad Avezzano che partirà dal prossimo autunno in collegamento e in stretto coordinamento con l'ITS di Lanciano. Quindi avvieremo una classe destinata a 25 allievi proprio sul profilo della meccatronica. Siamo stati spinti a far questo anche su impulso delle grandi imprese, soprattutto quelle del comparto dell'area marsicana e al termine di due anni questi ragazzi avranno l'opportunità di entrare nelle aziende ed essere assunti.